Musica Dopo il ciclo di incontri dello scorso anno dal titolo I giovani trasgressivi, dubbi e paure, la Proloquo di Lendinara continua il suo impegno alla scoperta dei problemi che affliggono la società del nostro tempo. Paure, fobie, panico, ossessioni, i disturbi d'ansia, capirli ed affrontarli, è il tema al centro delle tre serate a cui interverrà come relatore lo psicoterapeuta lendinarese Emiliano Toso. Noi siamo stati molto decisi nell'affidare l'incarico di affrontare questi argomenti sull'ansia al dottor Emiliano Toso perché è la sua specializzazione, lui si occupa proprio di questi disturbi, tant'è vero che ha scritto due volumi a riguardo e ne ha in cantiere un terzo. Pensiamo di fare cosa gradita, organizzare questa serie di incontri, anche perché pensiamo che la Proloquo e tutti quelli che hanno cariche pubbliche si devono occupare dei disagi ma anche delle esigenze della cittadinanza e quindi pensiamo di aver fatto una cosa buona, aver organizzato questi incontri. La prima delle tre serate è stata incentrata sulla distinzione fra ansia normale e ansia patologica, paure e fobie, per dare modo al vostro pubblico presente di delineare i confini di quelli che sono fra i più comuni disturbi psicologici del nostro tempo. Come si risolvono questi disturbi? Quali sono le cose che possiamo fare nel quotidiano per uscirne? Una cosa molto importante che appunto evidenzierò questa sera è l'esposizione, affrontare le cose che più temiamo è l'approccio più efficace per quanto riguarda i disturbi d'ansia. Quindi dal punto di vista pratico, identificato qual è lo stimolo, l'evento che noi temiamo, quello appunto di affrontarlo. Questo è un consiglio auspicio però che raggruppa tutta una serie di abilità, di forza, di energia, di coraggio che la persona deve acquisire per affrontare le proprie paure. Quelle fobie a cui parleremo questa sera sono quelle paure che appunto ostacolano la vita, la funzionalità dell'individuo. Per esempio una fobia di cui appunto parlerò questa sera è la fobia sociale, che è una forma di timidezza estrema e questo è un problema perché ostacola l'individuo, la crescita dell'individuo, il suo inserimento e l'avattamento sociale. Qual è la forma di ansia più comune, la fobia più comune? Questa, la fobia sociale, il disturbo di panico e poi il disturbo ossessivo compulsivo. Anche quello è un disturbo poco riconosciuto perché molte persone che ne soffrono non lo dichiarano oppure non chiedono aiuto appunto per la sua stranezza, però è frequente. E come si manifesta? Si manifesta con tutta una serie di idee strane, appunto, ecco perché la persona si vergogna di chiedere aiuto. Idee strane come per esempio una mamma che ha appena avuto un figlio ha idee per esempio e se uccido mio figlio, oppure un uomo virile pensa e se divento omosessuale. Quindi tutte queste idee strane che un po' alla volta acquisiscono la forma di ossessioni possono in certe persone dar vita a tutta una serie di rituali, chiamate compulsioni, che permettono all'individuo di trovare un certo equilibrio alla propria ansia mantenendo paradossalmente però il problema. Cioè la persona continua ad avere le proprie ossessioni e quindi le proprie compulsioni. Anche quest'anno gli incontri sono stati organizzati con il patrocinio del comune di Lendinara. Penso che sia un problema da affrontare in maniera molto attenta e molto seria. Vedo che c'è moltissima gente, è una cosa importante che ci serve per capire i sintomi e come muoverci e cosa fare per poterla affrontare. La grande partecipazione di pubblico ha dimostrato che anche questa volta la prologo di Lendinara ha colpito nel segno, individuando un argomento vicino a tutti più di quanto si possa pensare. Grazie per la visione!